Buongiorno carissimi, bentrovati in questa solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La liturgia della parola di oggi, molto abbondante, ci fa leggere il capitolo primo di Osea, del profeta Osea, ed è bello perché il popolo vive una situazione un po' di riboglione nei confronti di Dio, ma il Padre Celeste ha trattato il popolo veramente con legami di bontà. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Pensiamo un po' anche il viaggio del popolo nel deserto, quindi un Dio provvidente, un Dio pieno di amore, un Dio che è sceso vicino al popolo, camminato insieme. Di un Dio che ci fanno dare tutto il suo amore in Gesù, che sulla croce viene non soltanto crocifisso, ma anche trafitto, non soltanto i chiodi entrano nelle sue mani e nei suoi piedi, una corona di spine è sul suo capo, ma anche il suo fianco viene trafitto e da lì sono usciti sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti e simbolo anche della Chiesa. E allora è un amore che non ha confini, un amore che ci ricorda essere un amore che vive anche il sacrificio, quel sacrificio sulla croce, che è il sacrificio di amore fino all'effusione dell'ultima goccia di sangue per la redenzione dell'umanità. E allora ecco che San Paolo, nella lettera agli Efesini, capitolo terzo, che oggi ci viene data come lettura, ecco San Paolo dice che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità siate in grado di comprendere con tutti i Santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E allora se da una parte c'è quella tenerezza del buon Dio che nella prima lettura tratta dal libro del profeta Osea abbiamo potuto ascoltare in maniera molto bella, se dall'altra parte non c'è un Dio che si vuole vindicare e quindi che vuole scatenare la sua ira sul popolo ma di un Dio che mostra tutto il suo amore in Gesù che ha donato tutto se stesso per la nostra redenzione come allora non esultare di grande gioia con il Vangelo di Giovanni capitolo 19 dal versetto 31 al versetto 37 proprio dove ci ricorda questo costato aperto che il Signore ecco ha donato per l'umanità. In quel costato aperto anche noi vogliamo entrare per assaporare tutta la provvidenza amorevole del Signore. Prendete il mio gioco sopra di voi, dice il Signore, imparati da me che sono mite e umile di cuore. La soledità del Sacro Cuore di Gesù ci invita a pensare alla nostra tipologia di amore quindi anche a comprendere come siamo in grado di rispondere anche alle offese con il bene come ha fatto Gesù sulla croce e nella misericordia ad avere un cuore mite ed umile, semplice e non altezzoso e ricordandoci che l'amore è anche sacrificio come l'ha stato anche di Gesù nel Sacro Cuore e ci ricorda che c'è un cuore coronato di spine. L'amore è sacrificio ma non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Che il Sacro Cuore di Gesù ci aiuti ad avere in noi i Suoi stessi sentimenti. Buona e santa giornata a ciascuno di voi.